Chi è alla ricerca del bello ama le cose esclusive. 1.618 Golden Hair Parrucchieri, centro di riferimento che saprà risaltare la tua unicità. Ci trovi in via Cesare Battisti 18, Soverato Catanzaro. Telefono 0967 62 0402. Crio è amore per la moda. Una boutique che unisce esclusività dei capi e ricercatezza dello stile in un ambiente accogliente e cordiale. Veste con eleganza la femminilità di ogni cliente e soddisfa tutti i gusti di stile e di moda. Crio. All is happening in fashion. Crio Boutique, centro commerciale Le Fornaci, Viale Magna Grecia, Marina di Catanzaro. Ben trovati ai telespettatori di LACI, benvenuti ad una nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla salute e alla medicina, al benessere in generale. Oggi, come avrete già letto poc'anzi, abbiamo deciso di occuparci ai segreti dell'estetica olistica, quindi una concezione diversa, più ampia del benessere, che svilupperemo insieme alla nostra gradita ospite. Ve la presento subito, la dottoressa Claudia Garofalo, estetista e formatrice. Benvenuta e grazie per aver accolto l'invito. Grazie. Grazie a lei, viene da Cosenza, vi dicevo, lei ha il suo centro benessere, naturalmente, dove mette in pratica le sue conoscenze, il centro Olos, assaporito di Rende, c'è anche una spa, quindi è il luogo sicuramente ideale per mettere in pratica appunto questo concetto, che ora vi spiegheremo, che è quello dell'estetica olistica. Un concetto molto vasto che riguarda il benessere sotto diversi punti di vista, quindi l'aspetto fisico, l'aspetto emozionale, ma anche mentale e spirituale. Ecco, chiariamo subito questo nuovo modo di concepire l'estetica. Allora, sicuramente partiamo dal nome, no? Che poi nuovo non è, perché appunto ci riporta veramente all'antica Grecia. No, no, anzi, forse è più antico di noi. Esatto. Allora, iniziamo da questo nome Olos, che in realtà è un termine greco, ma Olos vuol dire tutto, no? Cioè Olos può essere utilizzato non solo nell'estetica, ma in qualsiasi ambito noi parliamo. Nell'estetica il tutto per noi vuol dire corpo, mente, spirito, anima, perché bisogna prendersi cura non soltanto del corpo, ma in realtà di tutto l'essere vivente. Noi siamo fatti anche di energia, specialmente di energia, quindi è per questo che nasce questa estetica olistica, chiamiamola così. In realtà, cioè questo è venuto fuori da una serie di studi, ovviamente, ma anche di tanti anni di lavoro, no? Quindi ti rendi conto che alla fine la cliente che viene da te per una cosa banalissima, che può essere, non lo so, un massaggio o una pulizia del viso, in realtà, fra virgolette, è quasi una richiesta d'aiuto, no? È vero. Perché vuole andare oltre, vuole affidarsi alle tue mani, si vuole per un'ora dimenticare di tutto, per questo è importante in questa estetica olistica non essere soltanto un'artigiana, no? Non fare soltanto il lavoro, però occuparsi di quello che si va oltre e stare attenti ai colori, stare attenti agli odori, alla musica, a tutto quello che ci circonda, perché in realtà tutto viene immagazzinato dalla nostra mente, e i cinque sensi sono fondamentali. Ecco, la vera bellezza è infatti uno stato di appagamento completo, come ci diceva lei, perché lei, che rappresenta poi tutto un po' la categoria di coloro che si prendono cura del nostro corpo, ma in questo caso anche della nostra anima, rappresentate un punto di riferimento, ecco, come appunto ci accennava, soprattutto nell'epoca moderna, in cui siamo sopraffatti da questi ritmi, ecco, incessanti che non ci lasciano tregua, invece quanto il nostro organismo avrebbe bisogno di queste pause, tra virgolette? No, tantissimo, perché a volte io penso, no? Cioè dico fra me, quando le persone vengono nel mio centro il tempo si deve fermare, perché è solo così che riesci a rigenerarti, no? Sempre fare le cose di corsa, quindi è importante dedicarsi del tempo, cioè se non decidiamo noi di dedicarci questo tempo, non ce lo riesce a dare nessuno, quindi anche un massaggio, Osho dice una cosa bellissima, riferite di massaggi, dice che è un grande gesto d'amore, perché in realtà quando noi parliamo, cioè pratichiamo questi trattamenti, no? In realtà noi diamo amore, quindi... Trasferite anche la vostra energia positiva sul corpo dell'altro. Assolutamente, è importantissimo questo, non si riuscirebbe a lavorare se magari si è arrabbiati o si è litigati con qualcuno prima, cioè bisogna staccare... Principalmente il benessere parte da noi, dall'operatore, dall'operatrice, quindi se sei tu in linea con l'universo, allora riesci a dare energia alla persona che si sottopone, ma se non riesci tu, cioè poi tutto il lavoro svanisce. E' vano, e anche voi quindi, voi operatori, avete i vostri benefici, perché date ma ricevete nello stesso momento. Assolutamente sì, assolutamente sì, è importantissimo. A volte io dico, mi sento meglio quando massaggio che quando vengo massaggiata, no? Perché conosco e quindi so che cosa devo dare e che cosa posso ricevere. Queste sono cose che fanno stare bene. Come si diventa operatori del benessere, quindi operatori dell'estetica olistica? Allora, in realtà bisogna fare un percorso di studi e diventare estetista, prima. E poi dopo riuscire a fare tanti percorsi che ti possano addentrare in questo che è un universo, un mondo. Si provi a pensare al naturopata che comunque è un medico del naturale, no? Questa figura professionale che comunque riesce, fra virgolette, a curare, anche se la parola curare non la possiamo utilizzare. Qualsiasi sintomatologia però fa con delle cure naturali, che possono essere i fiori di Bach, la cromoterapia. Ed è la stessa cosa l'estetista. Si inizia a fare un percorso, non lo so, un percorso di Reiki, che per esempio è un trattamento universale di amore puro, no? Si iniziano a studiare i cristalli, si inizia a fare riflessologia plantare. Ritorniamo un po' a quello che facevano anticamente i cinesi. Perché in realtà la medicina cinese esiste forse da 20.000 anni, cioè i cinesi si sono sempre curati così e quindi noi occidentali in realtà ci stiamo approcciando da un po' di anni a questa nuova filosofia. Ecco c'è quindi sicuramente un percorso impegnativo dietro, un percorso di formazione e preparazione che si scontra tante volte anche con l'improvvisazione che oggi il mercato ci propone. Sì sì assolutamente, anche perché io dico sempre bisogna stare attenti quando si parla con le persone, quindi non illuderle, no? Cioè magari a volte una semplice cliente può trovare nel trattamento che proponi o nelle parole che tu dici un conforto, ma non possiamo ergerci sicuramente o sostituirci ai medici o ad altro. Noi ci occupiamo soltanto di benessere, che è un'altra cosa. Come riconoscerlo quindi il professionista del benessere? Se volessimo fare un identikit diciamo? Allora sicuramente ci vuole una formazione di studio importante. Si inizia facendo un percorso di estetica, se si vuole fare, se si vuole praticare l'estetica olistica, se si vuole praticare soltanto il massaggio, ci si può dedicare ad un corso di studi di Ayurveda, perché anche in India per esempio ci si curava e ci si cura con l'Ayurveda, no? Che è questo massaggio molto particolare, fatto con degli oli particolari. Sono i percorsi di studio che ti fanno diventare poi un vero professionista e non bisogna illudere le persone. Ecco. A volte non è semplice neanche riconoscerli perché io potrei andare dal medico migliore del mondo e poi magari rimanere anche deluso, certo, non soddisfatto. Allora in questo discorso si incontrano inevitabilmente il corpo e l'anima, quindi in un discorso ampio di bellezza, che poi fa i conti con questi canoni che ci vengono anche offerti dai mezzi di comunicazione. Quindi dobbiamo andare oltre, superare questi limiti, perché poi diventano dei limiti in quanto anche soprattutto i giovani, le giovani generazioni si fermano di fronte a queste immagini perfette, trascurando quello che è il vero benessere. Assolutamente, non vuol dire avere un'immagine perfetta, un corpo perfetto, non vuol dire poi stare bene con se stessi. Spesso è il contrario, cioè stare bene con se stessi è l'accettazione, quindi non sempre rispecchia la verità. Come avviene un percorso anche emozionale? Perché ora capiremo un po' quali sono questi percorsi emozionali e sensoriali. Ormai lei nel suo centro, ma sicuramente molti altri suoi colleghi li offrono, ma li propongono e sono anche molto richiesti, perché poi ci si immerge in questa dimensione altra che davvero rilassa mente e corpo. Cosa sono questi percorsi? Allora, in realtà bisogna creare l'ambiente, questa è la cosa importante, perché quando una cliente viene da noi, bisogna non soltanto rassicurarla con le parole, però anche i colori hanno una valenza importante, no? Per chi studia i colori, l'azzurro e il verde sono dei colori molto rilassanti, quindi sicuramente non utilizzare dei colori accesi. Gli odori sono fondamentali perché l'olfatto è, cioè l'odore è la prima cosa che arriva al cervello, no? Quindi degli odori dolci, particolari, che riescano a rilassare e poi la musica fondamentale, la musica del pianoforte è la cosa che rilassa di più. E poi questo è un connubio, no? C'è un insieme di tante cose abbinate ad un massaggio, ma non soltanto il massaggio. A volte, io dico, anche fare un trattamento ai piedi, che magari può sembrare la cosa più semplice, no? Una persona si rilassa completamente, anche soltanto trattando i piedi. Pensiamo che con la riflessologia plantare riusciamo a risolvere delle patologie fisiche importanti, no? Quindi i piedi sono sacri. Basta poco a volte, basterebbe poco, eppure tanti si trascurano, quindi l'invito che facciamo è proprio di rilassarsi, di lasciarsi andare e di affidarsi alle mani sapienti di questi esperti dell'estetica olistica, che ci propongono delle vere e proprie coccole per l'anima. Ecco, lei parlava di tutti questi aspetti, di tutti questi elementi che mi viene in mente si potrebbero anche trasferire, volendo in un ambiente casalingo, domestico, bisognerebbe circondarsi anche lì di colori rilassanti, accoglienti, di suoni e odori. Di suoni e odori, di lampade di sale, che per esempio sono fondamentali. Qual è il beneficio che apportano queste lampade? Perché rimanendo accese per tanto tempo, in realtà ionizzano l'aria, quindi si respira dell'aria pura, noi siamo comunque bombardati da telefonini, computer, e quindi purificano l'aria, queste lampade purificano l'aria, o non lo so, dei cristalli che comunque emanano dell'energia positiva, i suoni, cioè anche a casa bisogna accompagnarsi da queste cose così particolari. Ci sono poi invece delle sostanze, ecco lei faceva riferimento tipo alle lampade di sale, ma delle sostanze che proprio aiutano a riequilibrare l'essere umano, sostanze naturali? Allora, sostanze in realtà ci possono, cioè sì, esistono i fiori di Bach, quello è uno studio più particolare, ma ci sono anche tanti aromi, o gli essenziali per esempio, che la menta è un tonico, riesce a dare tonicità, il gelsomine è un rilassante, la melisse è un rilassante, quindi abbiamo l'aiuto della natura che è importantissimo anche in questo, anche perché se si parla di esteticolistica è normale che la natura è il nostro più grande alleato. Assolutamente, lei parlando prima faceva riferimento alle clienti, alle donne, ma quanti uomini si avvicinano a questo genere di estetica? Tantissimi, io dico sempre che l'importante è saperlo proporre, cioè se una persona o una professionista decide che quella è la sua strada, che quello è il suo mondo, bisogna saperlo comunicare, perché spesso, o quasi sempre, non c'è la conoscenza, quindi si ignorano questi aspetti fondamentali e quindi la comunicazione è importantissima, comunicare che comunque c'è anche quest'altro aspetto, che oltre al massaggio posso darti altro e quindi la comunicazione è fondamentale. A proposito di comunicazione, al giorno d'oggi ormai abbiamo internet sempre a portata di mano, che ci offre di tutto e di più, ecco, quanto sono attendibili anche i consigli che troviamo poi su alcuni siti? Alcuni sono molto attendibili, devo dire la verità, sono pure bravi. Ovviamente sta a noi riuscire a capire che cosa vogliamo, come ci possono essere anche, io prendo l'esempio più lampante, ci sono 3.000 diete, voglio dimagrire, adesso vado su Google e dico come faccio a dimagrire. Si trova subito la soluzione. E si trova la soluzione. Magari è più difficile, voglio fare una seduta di Reiki, come faccio, però sicuramente riesci a spiegarlo, no? Sono tante cose che si ignora, una dieta si sa che cos'è, però fare un trattamento con i cristalli o sapere che cos'è un chakra, magari non lo sappiamo tutti e internet ti aiuta tantissimo. Ecco, cosa sono a questo punto, spieghiamolo, perché non credo che tutti sappiano in che cosa consiste. Allora, qui partiamo sempre dalla medicina orientale, in realtà. esiste un corpo fisico, dove lo conosciamo anatomicamente, ed esiste un corpo sottile, fatto di energia. In questo corpo sottile la fanno da padrone i chakra. Chakra in sascrito significa ruota. E noi nel nostro corpo ne abbiamo tantissime, anche se in realtà quelli principali sono sette. Sono posizionati in dei punti specifici del corpo. si inizia da quello più in basso, viene chiamato chakra della radice, poi quello sessuale, quello del plesso solare, il cuore, la gola, il terzo occhio e la corona, più o meno posizionati in questa linea. Sotto ogni chakra, ogni chakra in realtà regolarizza gli organi, però sono legati anche alle emozioni, ai sentimenti. Ogni chakra ha un colore. E quando questo chakra si blocca, in realtà, fisicamente ed energeticamente, si ha un blocco. E risente tutto l'organismo. Tutto l'organismo. E voi come intervenite in quel caso? Allora, in realtà, bisogna prima capire quale chakra si è bloccato, e poi lo si può armonizzare, armonizzare con un massaggio, si può armonizzare con un cristallo, che rimangono bloccati per sempre. Magari è un momento particolare della vita in cui si ha, non lo so, faccio un esempio, no? Se ha problemi di comunicazione, il chakra della gola sarà sicuramente bloccato. Quindi, non lo so, vestire di azzurro, perché il chakra della gola è blu. Quindi, vestire di azzurro, cercare di stare più attenti a come si vuole parlare. Piccoli accorgimenti, insomma, che potrebbero essere sicuramente di aiuto. Un valido aiuto contro anche il nemico principale, forse, dei tempi moderni, che è lo stress. Assolutamente. Questo stress, come lo possiamo combattere? Quali consigli ci può dare? Allora, non è semplice, perché in realtà, io dico sempre che siamo noi, che ci creiamo lo stress, sicuramente anche la società. Ma se noi impariamo a fermarci, a saperci fermare, anche nel nostro piccolo, non bisogna partire. O magari dici, vabbè, parto, vado all'estero, in una spa, così mi rilasso. A volte si combatte lo stress anche a casa. Basta dedicarci del tempo. Ecco, semplicemente quello che manca sempre. La cosa più semplice in assoluto, però poi alla fine non lo fa praticamente così nessuno. E allora, lei tutto questo bagaglio, diciamo, di studio, di conoscenza, ha pensato bene, oltre che di metterlo in pratica attraverso il suo centro benessere, di trasferirlo poi in quello che diventerà un vero e proprio centro di formazione, lo possiamo chiamare così. Nascerà infatti la scuola Stati Generali dell'estetica, che si chiamerà Che ne sarà di noi. Un titolo che, insomma, racchiude un po' anche il discorso che abbiamo appena fatto. Possiamo già anticipare qualcosa in merito a questo progetto che è ancora in itinere, però è bello anche raccontare... In realtà la scuola si chiama Stati Generali dell'estetica. Che ne sarà di noi è tutto un progetto un po' più particolare. Qual è l'intento di questa scuola di formazione? In realtà formare, creare un connubio perfetto fra didattica e lavoro, perché spesso quando si fanno questi corsi di formazione legati all'estetica, legati al benessere, poi c'è difficoltà nell'inserimento lavorativo. Quindi il progetto, l'obiettivo principale di Stati Generali dell'estetica è quello di accompagnare gli allievi nella formazione, ovviamente con formatori altamente qualificati, di avere un indirizzo olistico e diretto al benessere, ma di avere già un lavoro quando si finisce di studiare, perché questa è la cosa fondamentale. altrimenti si finisce sempre per fare dei percorsi di studio e poi alimentare il lavoro nero e non va bene. Assolutamente sì. In bocca al lupo per questa iniziativa molto interessante, soprattutto perché darà anche degli sbocchi concreti e occupazionali a dei giovani che hanno intenzione di intraprendere questa strada, la strada che lei stessa ci sta raccontando di aver intrapreso diverso tempo fa e che ora mette a disposizione dei suoi clienti, visto che abbiamo detto che non solo le donne ricorrono all'estetica olistica. Allora stiamo andando poi verso l'estate, ma ci siamo, siamo in estate lo possiamo dire ormai, perché la gente si sta iniziando ad esporre ai raggi solari, sta iniziando a svolgere delle attività che solitamente si svolgono in estate e quindi ritorniamo a parlare dei soliti problemini che ci sono durante il periodo estivo. Uno fra tutti è la ritenzione idrica. Come far fronte a questo problema? Allora diciamo, facciamo una premessa, bisognerebbe far fronte tutto l'anno. Esatto. In realtà poi ci si accorge quando si va al mare di tutte le problematiche. È importantissimo perché gli accumuli di liquidi forse poi sono legati poi ai problemi della cellulite, sono gli inestetismi che affliggono di più le donne, perché gli uomini non hanno problemi di cellulite. Quindi sicuramente è importantissimo ridurre il sale, perché il sale ha un potere osmotico, quindi ci rende gonfie. Sicuramente bere tanta acqua e farsi aiutare da dei drenanti e dei massaggi. Io dico di farlo non soltanto nei due mesi che precedono l'estate, ma tutto l'anno, perché solo così se parliamo di benessere poi non possiamo fare un benessere riduttivo. Esatto. Bisogna arrivare preparati e pensare al nostro benessere psicofisico assolutamente 12 mesi all'anno, quindi non soltanto nel periodo estivo. Allora stiamo andando verso la fine di questa rubrica, insieme vi ricordo all'estetista e formatrice Claudia Garofalo, Garofalo, stiamo parlando dei segreti dell'estetica olistica. Per concludere, quindi, qual è l'invito che possiamo fare a tutti coloro che ci seguono, invitandoli appunto a dedicarsi un po' di quel tempo prezioso per recuperare anche energia positiva da noi stessi? La cosa più importante, ripeto, è ricavare questo tempo, pensare che in realtà è un regalo che facciamo a noi, è un dono, è un dono per la nostra vita e per migliorare la nostra vita. Poi io dico sempre, si prova una volta poi non si smette mai, quindi provate una volta. Diventerà una sana dipendenza, diciamo, quindi dedicarsi un po' di tempo, un bel massaggio, un bel percorso in una spa, quindi cosa c'è di meglio se non questo, proprio in un mondo così frenetico, nella frenesia quotidiana, dobbiamo pensare principalmente a noi stessi. Noi vi abbiamo voluto appunto parlare di questo per invitarci un po' tutti insomma al meritato relax. Allora con questo noi abbiamo terminato, io ringrazio davvero la dottoressa Claudia Garofalo per essere stata con noi, poi magari ci rivedremo più avanti per raccontare un po' quello che sarà di questa scuola stati generali dell'estetica, così capiremo un po' in che direzione si andrà. Vi ricordo lei viene dalla provincia di Cosenza, ma naturalmente vi potete rivolgere ai vostri esperti di riferimento in ogni dove. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il nostro sito per rivedere tutte le nostre produzioni, anche un sito con una nuova veste grafica che è la ctv.it, l'indirizzo invece dove scriverci è salutechiocciola la ctv.it. Grazie ancora alla dottoressa Garofalo, grazie a voi per l'attenzione, arrivederci alla prossima puntata di La Cisalute. Vi aspetto con La Cisalute ogni mercoledì e venerdì alle 13.30, alle 15 e alle 20. Per le vostre domande, le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti, scrivete a salutechiocciola la ctv.it. Per rivedere le nostre puntate è possibile consultare il sito www.lactv.it. Non mancate!